Un primo maggio è una prova difficile, senza le piazze, senza piazza San Giovanni per i giovani al concerto, ma spero che sia la possibilità della ripresa economica e sociale del nostro paese dopo aver superato questa pandemia. Dobbiamo fare di tutto perché si riprenda l'economia e si sconfigga per sempre quella cultura liberista sfrenata che ci ha messo in difficoltà per non avere nemmeno i kit di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di non avere una sanità in grado di poter reagire se no con l'eroismo dei medici, degli infermieri, degli operatori e tutte le filiere che sono state al lavoro per cercare di dare al nostro paese la possibilità di riprendere come finirà la pandemia.